mercoledì 26 marzo alle 17 viene presentato a palazzo lascaris il nuovo numero di notizie il magazine della regione piemonte il servizio di apertura della rivista è dedicato al peso economico della cultura quale opportunità di sviluppo per il territorio parte di questo ricco patrimonio è costituito dalla lingua piemontese al centro di un altro servizio dedicato alle associazioni che ne diffondono la conoscenza tutelando l'identità locale alla presentazione intervengono la scrittrice margherita oggero e albina malerba direttore del centro studi piemontesi